Ringraziamo il Vice Sindaco di Camogli che ci ospita in questa bellissima sede, uno dei piccoli teatri italiani che hanno fatto la storia di tante comunità e creato una base di aggregazione sociale, di cultura e che continua, vedo, tranquillamente a vivere e a prosperare. Ecco, succisa florescit, stroncata e tornata a fiorire. Anche la nostra iniziativa, Esther, sembrava essere stata stroncata e invece dal germoglio viene fuori questo piccolo fiore e dal fiore ci siamo qui tutti quanti. Persone che sono state coinvolte da Esther Pasqualoni nei tempi, direi anche un po' travolte dall'entusiasmo con cui lei ha affrontato intanto prima l'idea, l'ideazione, questa cosa che gli veniva in mente che si formava, poi ne ha parlato con le persone, le persone l'hanno incoraggiata, poi ha affrontato i problemi. Realizzare mostre diffuse nel territorio non è mai facile e quindi il risultato nel 2019, nell'estate del 2019 fino all'autunno inoltrato della mostra diffusa qui nel monte di Portofino fino alla Basilica dei Fieschi e quindi una grande opportunità oggi di vedere, ripercorrere attraverso la storia del catalogo perché di questo stiamo parlando. presenteremo il catalogo che è stata l'ultima parte di questa bellissima avventura artistica che ha dato la possibilità di fissare il ricordo indelebile di queste opere che sono state ospitate nelle bellissime chiese che si trovano qui nei monti, prospicenti il mare, in posizioni straordinarie e di ricordare anche, altro motivo del nostro essere qui questa sera, che due di queste opere resteranno in modo permanente laddove sono state ideate e pensate. Ci sono tutti i protagonisti quindi poi parleranno tutti i protagonisti di questa bellissima davvero avventura dove da un lato si è messo in enorme evidenza l'importanza della storia sacra, architettonica, culturale di questa zona con queste straordinarie monumenti che tra l'altro vicini uno all'altro e tant'è vero che l'itinerario in parte era possibile farlo a piedi e dall'altro l'importanza che questa tradizione guardi avanti, cioè ospiti l'arte contemporanea. Tra le persone che più hanno compreso, sostenuto e guidato Esther Pasqualone in questo suo progetto c'è Giuliana Algeri, adesso vi presento mano a mano che comparite in scena, Giuliana Algeri è una persona che tutti noi conosciamo da tempo e abbiamo letto e apprezzato tra le tante sue incariche a difesa del patrimonio artistico italiano comune, c'è stata la permanenza come sovrintendente ai beni artistici e storici di questa regione, quindi persona che conosce nei dettagli minimi i monumenti che hanno ospitato questa manifestazione. Quindi comincerei dai luoghi dando la parola a Giuliana Algeri. Buonasera a tutti, si sente? Sì. Mi riallaccio a quello che ha appena detto il vice sindaco, questo completamento della mostra di Esther doveva avvenire due anni fa, però poi le cose sono andate diversamente, ma come sempre in tutto c'è una parte negativa ma anche una parte positiva, perché questi due anni che ci hanno visti anche disorientati hanno fatto emergere forse di più, in maniera più chiara, il senso del progetto di Esther che è nato proprio dal desiderio di rileggere con occhi nuovi rivolti al futuro i segni di un passato che soprattutto nella zona del Tigullio è stato dimenticato o perlomeno trascurato rispetto ad aspetti più recenti. Infatti la mostra di Esther ci riporta a un passato remoto. Noi vediamo oggi la Liguria con una forte urbanizzazione che però non ha più di 60 anni e quindi dobbiamo riportarlo con la mente a un territorio molto più povero di abitazioni e di insediamenti civili. Invece questo suo essere appartato, soprattutto la zona del monte di Portofino, ha costituito già agli inizi dell'era cristiana un terreno fertile perché si insediassero delle comunità monastiche, delle comunità civili a punteggiare questo territorio. Non per niente il percorso parte idealmente dalla chiesa di San Michele Arcangelo che è qui proprio nel punto di passaggio sul monte di Portofino tra il lato occidentale che guarda verso Genova e il lato orientale che si apre sul Tigullio. E l'intitolazione, ormai le forme anche se molto antiche non sono più certo quelle della primissima chiesa, però l'intitolazione a San Michele Arcangelo ci porta a un momento cruciale della vita della Liguria, cioè l'arrivo, l'invasione Longobarda nel VII secolo. I Longobardi arrivavano dalla Lombardia a cui si erano già stanziati nel secolo precedente. Ecco, è uno dei santi per cui avevano un culto particolare, proprio San Michele, perché a San Michele era legata il loro insediamento nelle Puglie vicino a Monte Sant'Angelo dove c'è uno santuario famosissimo dedicato a San Michele. E quindi questa intitolazione ci riporta veramente all'origine, anche all'origine traumatica della formazione moderna di questo territorio, finita ormai la dominazione romana. Quindi è stato bello cominciare questo percorso a ritroso nelle radici del territorio proprio da San Michele. L'altro insediamento fondamentale, e questo forse il più antico, è quello di San Fruttuoso, dell'abbazia di San Fruttuoso di Camogli, che risale a un momento altrettanto, la cui origine risale a un momento altrettanto problematico, perché l'arrivo delle reliquie dei santi di San Fruttuoso sono legati all'invasione araba della Spagna. Sappiamo che gli arabi nel corso del VII secolo hanno praticamente raggiunto tutto il Mediterraneo. Ecco, e il culto per San Fruttuoso nasce proprio in quel momento. Le reliquie vengono recuperate e portate in Liguria e qui si crea un luogo di devozione, quella che sarà poi l'abbazia di San Fruttuoso, e diventano, diciamo, nobilitano una località che è quasi senza uguali, perché la caratteristica fondamentale della località di San Fruttuoso è quella di avere una sorgente d'acqua dolce a pochi metri dal mare. E quindi questa località, questa preziosità, doveva essere custodita, e a guardia di questa fonte si forma prima un cenobbio monastico e poi la grandiosa abbazia di San Fruttuoso. Altri, diciamo, centri minori, però sempre legati a questi insediamenti monastici. Le opere di Estre sono state inserite tutte in chiese che non hanno una storia di parrocchie, ma una storia di insediamenti monastici, così come per San Nicolò di Capodimonte, che è una propagine del genovese, dei canonici che avevano San Salvatore a Sarzano, e, in lo stesso modo, l'eremo di Sant'Antonio di Niasca, che si rifà a Sant'Antonio Abate, che abbiamo un po' banalizzato come protettore degli animali, ma in effetti Sant'Antonio Abate è il primo degli ascetti, è il primo santo che ha avuto anche una vita, cioè scritta, è stata scritta una vita, da cui si è ritirato nel IV secolo, ed è un santo importante proprio per la vita monastica, per la vita ascetica. Dall'altro verso, fuori, poi più tarda, ma è rimasta fuori dal nostro percorso, perché adesso ha una condizione giuridica diversa dagli altri movimenti, anche l'abbazia non dobbiamo dimenticarla, però l'abbazia della Cervara, ma un insediamento decisamente più tardo. E quasi a questi insediamenti monastici fa però da contraltare la grandiosa Basilica dei Fieschi, altro monumento che noi non teniamo in gran considerazione, mentre nessuno se ne abbia male, l'abbazia dei Fieschi è al di fuori di Genova il monumento medievale più importante, e invece è diventato quasi una visita per appassionati. Ecco, mentre è stato il centro del potere papale nel 200, quando il papa si opponeva all'imperatore Federico II, quindi stiamo parlando di avvenimenti di primaria importanza nella storia europea, non solo genovese, non solo ligure, ma addirittura europea. Ecco, Esther ha scelto questi luoghi per le sue opere, proprio per recuperare un passato che in tutta questa zona è stato oscurato dalla grandiosa diffusione che c'è stata di monumenti, di chiese, di parrocchie, di opere d'arte, eccetera, poi nel secolo, nel 600 e nel 700, che sono quelli che ancora oggi caratterizzano tutti i borghi della riviera. Quindi si è voluti tornare più indietro a questa, e anche riscoprire questa spiritualità affidata a dei monumenti dalle linee essenziali, che molto bene hanno ospitato le opere di Esther, che proprio a recuperare l'aspetto spirituale delle opere, una cosa oggi anche abbastanza inconsueta, sono le opere di Esther che cercano proprio di recuperare questo aspetto attraverso soprattutto lo studio della luce e lo studio delle opere all'interno dei monumenti. E quindi questa è la base. E su questo Esther ha poi investito la sua mostra. Grazie. 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 Grazie.